Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se siete nuovi vi invito a iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati per quando usciranno i prossimi video. Oggi voglio continuare con voi alcuni esercizi per quanto riguarda gli integrali tripli. In particolar modo mi voglio soffermare sugli integrali tripli che si andranno a svolgere con le coordinate sferiche. Senza perdere tempo io direi di iniziare con il primo esercizio. Allora, prendiamo in considerazione a, b e c che devono essere maggiori di zero. E consideriamo il volume t che però è racchiuso da un ellissoide che ha questa equazione, ovvero x al quadrato fratto a al quadrato, più x al quadrato fratto b al quadrato, più z al quadrato fratto c al quadrato uguale 1. Voglio calcolare appunto l'integrale, che sarà appunto un integrale triplo sul dominio t, che abbiamo detto è racchiuso da questo ellissoide, di x al quadrato più y al quadrato in dx dy dz. Allora, andiamo a scriverlo per esteso il nostro dominio t. Abbiamo detto che t è il dominio che è costituito da x, y, z che appartengono a r al cubo, tale che appunto questo ellissoide, quindi x al quadrato fratto a al quadrato più y al quadrato fratto b al quadrato più z al quadrato fratto c al quadrato, deve essere minore o uguale di 1. Possiamo vedere che questo ellissoide risulta essere simmetrico rispetto all'asse x, rispetto all'asse y e rispetto all'asse z. Inoltre, la funzione integranda possiamo vedere essere proprio pari sia in x, sia in y, sia in z, proprio perché se noi andiamo a vedere la funzione integranda, questa non dipenderà dalla nostra z. Quindi possiamo scrivere anche l'integrale in quest'altro modo, ovvero l'integrale sarà uguale a 8 per l'integrale triplo, sempre nel dominio t, di x al quadrato meno y al quadrato, sempre in dx, dy, dz. Dove in questo caso però il nostro dominio t lo possiamo anche chiamare come t più. Infatti, il nostro dominio t più sarà proprio quel dominio costituito da x, y, z appartenente a r al cubo, tale che x al quadrato fratto a al quadrato più y al quadrato fratto b al quadrato più z al quadrato fratto c al quadrato deve essere minore o uguale di 1, però imponendo che sia la x, sia la y, sia la z devono essere tutti e tre maggiore o uguale di 0. Come abbiamo visto, la geometria però del nostro dominio di integrazione suggerisce appunto un passaggio in coordinate sferiche. Le nostre coordinate sferiche noi le possiamo anche scrivere in questo modo, ovvero x è uguale a rho coseno di teta seno di fi, y uguale a b rho per il seno di teta seno di fi e poi la nostra zeta che è proprio c per rho per il coseno di fi, dove dx, dy, dz invece le trasformiamo in a b c rho al quadrato seno di fi in d rho d teta di fi. In questo caso invece il nostro dominio t che noi avevamo scritto in questo modo diventerà proprio un parallelepipedo. Infatti t più lo trasformiamo come l'insieme 0,1 moltiplicato per 0 pi greco mezzi che appunto è un altro insieme e l'altro insieme sarà proprio 0 pi greco mezzi. Quindi a questo punto passiamo alla risoluzione del nostro integrale. Infatti l'integrale era uguale proprio a 8 per l'integrale è tripolo. Ora ci scriviamo il dominio trasformato, ovvero t più, quindi andiamo a scriverci tutti questi insiemi che formano proprio il parallelepipedo. Quindi 0 pi greco mezzi è sempre 0 pi greco mezzi. Di che cosa però? Di a al quadrato rho al quadrato coseno al quadrato di teta per il seno al quadrato di fi più b al quadrato rho al quadrato per il seno al quadrato di teta per il seno al quadrato di fi per abc per rho al quadrato seno di fi in del rho di teta di fi. Questo ovviamente lo mettiamo tra le tonde e andiamo a fare qualche calcolo, ovvero 8 abc lo possiamo anche portare fuori perché non dipendono appunto da né la rho teta e né da fi. Ci scriviamo di nuovo l'integrale triplo, sempre con il nostro dominio che è il parallelepipedo e andiamo a vedere all'interno cosa possiamo fare. Allora facciamo a al quadrato per rho alla quarta coseno al quadrato di teta seno al cubo di fi più b al quadrato di teta seno alla terza di fi in del rho di teta di fi. Ho semplicemente quindi moltiplicato questo rho al quadrato seno di fi per la nostra parentesi tonda in modo tale che ora faccio 8 abc e andiamoci a separare appunto questi nostri tre integrali. Quindi facciamo l'integrale tra 0 e 1 di rho alla quarta in del rho per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di seno al cubo di fi in del fi per a al quadrato per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di coseno al quadrato di teta in del theta più b al quadrato per l'integrale più b al quadrato per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di seno al quadrato di teta in del theta. Andiamo a svolgere i singoli integrali, quindi scriviamo 8 abc per... Questo lo possiamo svolgere in maniera molto semplice, ovvero rho alla quinta fratto 5 valutato tra 0 e 1. Invece quest'altro lo trasformiamo come l'integrale tra 0 e pi greco mezzi, il seno al cubo lo scriviamo come un quarto per 3 seno di fi meno seno di 3 fi, tutto in d fi. Invece coseno al quadrato di teta e seno al quadrato di teta lo trasformiamo anche in questo caso. Quindi a al quadrato per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di un mezzo coseno di 2 teta più 1 in d theta più b al quadrato per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di un mezzo per 1 meno coseno di 2 teta in d theta. Andiamo a risolvere un po' questi nostri integrali. Allora, scriviamo 8 abc per un quinto, per 3 quarti lo possiamo portare fuori dall'integrale, quindi 3 quarti l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di seno di fi in d fi. Sto andando a separare in modo tale che vengano integrali più semplici. meno un quarto per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di seno di 3 fi in d fi. E ora andiamo a vedere quest'altro. Allora, a al quadrato fratto 2, perché mi sono portato un mezzo fuori, per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di coseno di 2 teta in d theta più a al quadrato mezzi per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di d theta più b al quadrato mezzi per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi in d theta meno b al quadrato mezzi per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di coseno di 2 teta in d theta. E ora andiamo a fare quindi 8 abc tutto fratto 5 per 3 quarti per meno il coseno di fi valutato tra 0 e pi greco mezzi meno un quarto per meno un terzo coseno di 3 fi valutato anche questo tra 0 e pi greco mezzi per a al quadrato mezzi per il seno di d theta coseno di d theta valutato tra 0 e pi greco mezzi più a al quadrato mezzi di d theta valutato tra 0 e pi greco mezzi più b al quadrato mezzi anche in questo caso di d theta valutato tra 0 e pi greco mezzi meno b al quadrato mezzi di seno di d theta coseno di d theta valutato tra 0 e pi greco mezzi quindi andiamoci a svolgere quindi questi calcoli ovvero 8 abc fratto 5 per 3 quarti per meno 0 più 1 meno un quarto anche in questo caso fa sempre prima 0 poi più un terzo poi abbiamo a al quadrato fratto 2 ma qua verrà sempre per 0 e quindi lo possiamo levare direttamente più a al quadrato mezzi per pi greco mezzi meno 0 più b al quadrato mezzi anche in questo caso viene sempre pi greco mezzi meno 0 e infine c'è rimasto quest'ultimo passaggio ovvero meno b al quadrato fratto 2 sempre per 0 che anche questo si va ad annullare quindi quello che ci è rimasto sarà proprio 8 abc fratto 5 per 3 quarti meno un dodicesimo invece in quest'altra parentesi quadra abbiamo a al quadrato per pi greco fratto 4 più b al quadrato per pi greco fratto 4 quindi abbiamo 8 abc tutto fratto 5 per 8 fratto 12 per un quarto perché ho messo in evidenza a al quadrato pi greco più b al quadrato pi greco quindi andiamo un po' a semplificare a fare qualche passaggio e otteniamo che farà proprio 4 fratto 15 pi greco lo metto in evidenza abc per a al quadrato più b al quadrato questa è proprio la soluzione del primo integrale che abbiamo visto spero che sia chiaro se così non fosse scrivetelo oppure sotto nei commenti cosicché io possa aiutarmi ora passiamo al secondo è il nostro ultimo esercizio allora facciamo l'integrale sempre integrale triplo sul dominio t di ln di x al quadrato più y al quadrato più z al quadrato in dx di x di y di z dove il solido t sarà proprio l'intersezione di b intersecato c dove b è proprio quel dominio quell'insieme con x y z che appartengono a r al cubo tale che x al quadrato più y al quadrato sia minore o uguale di 1 quindi abbiamo una sfera unitaria mentre l'insieme c sarà quell'insieme costituito da x y z sempre che appartengono a r al cubo tale che x al quadrato più y al quadrato sia minore o uguale di z al quadrato ma la z al tempo stesso deve essere maggiore o uguale di 0 in questo caso invece la c rappresenta proprio una porzione di cono solido nel semispazio z maggiore o uguale di 0 l'espressione che possiamo vedere all'interno della nostra funzione integranda ovvero x al quadrato più y al quadrato più z al quadrato e proprio il nostro insieme b ci fanno pensare alle coordinate sferiche quindi andiamoci a scrivere anche in questo caso le coordinate sferiche per poi passare alle nostre sostituzioni allo svolgimento dell'esercizio ovvero x uguale a rho coseno di teta seno di fi y uguale a rho seno di teta seno di fi e poi z uguale a rho coseno di fi ora dobbiamo capire come andare a scrivere invece ad esempio t segnato quindi il nostro insieme però valutato nelle coordinate sferiche allora innanzitutto ci andiamo a convertire sia la b sia la c quindi il b segnato lo possiamo anche scrivere come teta che deve appartenere all'insieme zero due pi greco mentre fi deve appartenere all'insieme zero pi greco rho al quadrato deve essere minore uguale di uno se e solo se rho appartiene all'insieme quindi all'intervallo zero uno invece per quanto riguarda la trasformazione di c segnato siccome io vado a considerare solamente la porzione del solido nel semispazio z maggiore uguale di zero possiamo dire che c segnato sarà costituito da teta che deve appartenere all'insieme zero due pi greco e fi che deve appartenere all'insieme zero pi greco mezzi quindi a questo punto posso esprimere le coordinate sferiche per quanto riguarda la mia condizione iniziale quindi x al quadrato più y al quadrato minore uguale di z al quadrato ovvero andrò a scrivere proprio che rho al quadrato per il coseno al quadrato di teta per il seno al quadrato di fi più rho al quadrato per il seno al quadrato di teta per il seno al quadrato di fi deve essere minore uguale di rho al quadrato per il coseno al quadrato di fi Non ho fatto altro che noi siamo partiti da x al quadrato più y al quadrato minore o uguale di z al quadrato. Al posto di x, y e z ho sostituito le coordinate sferiche. Quindi possiamo continuare con le coordinate sferiche e dire che ρ al quadrato per il seno al quadrato di φ meno coseno al quadrato di φ deve essere minore o uguale di zero. Se solo se però anche la ρ al quadrato per il seno di φ più coseno di φ per il seno di φ meno coseno di φ deve essere minore o uguale di zero, sempre se solo se il seno di φ deve essere minore o uguale del coseno di φ. Quindi possiamo dire che la φ deve appartenere all'insieme zero π quarti. Tutto questo per dire che cosa? Che il nostro dominio t segnato ora sarà proprio θ che appartiene a zero, due π. φ invece appartiene, abbiamo visto, da zero a π quarti e ρ che deve appartenere all'insieme zero, uno. A questo punto, ho trovato anche il dominio t segnato, posso andarmi a scrivere l'integrale in maniera diversa. Infatti ora l'integrale triplo lo valutiamo tra 0,1, 0,π quarti e 0,2π, sempre di φ, sempre di ln, ma in questo caso di ρ al quadrato per ρ al quadrato per il seno di φ in dφ dθ del ρ, che lo possiamo anche scrivere come 2π per l'integrale tra 0 e π quarti di seno di φ in dφ per l'integrale tra 0 e 1 di ρ al quadrato per ln di ρ al quadrato in dρ. A questo punto dobbiamo integrare per parti, ovvero facciamo proprio che 2 per l'integrale tra 0 e 1 di ρ al quadrato per ln di ρ in dρ sarà uguale a meno 2 per l'integrale tra 0 e 1 di ρ al cubo fratto 3, di 1 fratto ρ in dρ, più 2 per ρ al cubo fratto 3, per ln di ρ, valutate tra 0 e 1, ovvero meno 2 terzi per l'integrale tra 0 e 1 di ρ al quadrato in dρ, più 2 terzi per ln di 1, meno 2 per il limite di ρ che tende a 0, di ρ al cubo fratto 3 per ln di ρ, il tutto farà proprio meno 2 fratto 9. Quindi a questo punto, avendo trovato anche svolto l'integrale per parti, il nostro integrale lo possiamo anche scrivere come 2π per meno coseno di φ, valutato tra 0 e π un quarti, per meno 2 noni, che sarà proprio 2 radice di 2 fratto 9π per radice di 2 meno 1. Bene, quindi anche con questo esercizio per oggi terminiamo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così non vi dimenticate di lasciare un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Per qualsiasi dubbio, per qualsiasi argomento, scrivete pure tutto sotto nei commenti, così che io possa svolgere altri esercizi o un argomento che vi piacerebbe vedere sul canale in un prossimo video. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!